Che meraviglia la cornice di Assisi e lo spettacolo della handbike? Diciamo che è veramente emozionante perché, come già detto prima, a parte l'organizzazione che è un lavoro sicuramente molto difficile, poi per gli atleti che sono veramente da ammirare e poi c'era una cornice di pubblico entusiasta, veramente una bella manifestazione. Sono contento di essere stato spettatore per questi atleti che lo meritano. Qui si respira un'atmosfera tutta particolare, questa è la faccia bella dello sport? Sì, diciamo che il ciclismo forse è ancora uno dei pochi che riesce a trasmettere dei valori umani che penso che nel calcio e in altri sport non ci siano.